Ciao a tutti, con questo video voglio fare chiarezza sulla nuova autocertificazione, sul nuovo modello che sarà in vigore dal 4 maggio, dal lunedì 4 maggio. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti anche al mio nuovo canale Crescita Personale con Massimo Taramasco del quale ti posto il link qua sotto, un canale di crescita personale che secondo me troverai interessante. Vai a fare un giro e se ti piace iscriviti. E ti ricordo inoltre il mio seminario online sulla legge d'attrazione che farò invece sul canale Felicità Benessere martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23.00 Per partecipare devi andare sul canale Felicità Benessere on page, tastina abbonati che sta vicino a tastini iscriviti se non lo vedi con l'app del cellulare o con il computer clicchi su abbonati, poi selezioni seminario online. Il seminario sarà martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23.00 ma poi ti resterà per un mese quindi avrai tutto il tempo per vederlo. E veniamo a questa nuova autodichiarazione. Come ben saprai, come ci ha detto il nostro presidente, servirà dal 4 maggio una nuova autocertificazione perché non saremo liberi di spostarci ma saremo sempre con le mani legate e ci sarà questa nuova autocertificazione che ha una novità importante, diciamo, da chiarire perché con quest'auto, e infatti io voglio far chiarezza, con quest'autocertificazione noi potremmo andare a trovare anche parenti affini perché prima all'inizio sembrava che fossero solo i congiunti, no? Il congiunto sembra un po' il caro estinto, no? Però il congiunto, uno dice sarà il marito, sarà la moglie, sarà il papà, sarà la mamma ma invece no, invece no perché è venuto fuori, all'inizio era così ma poi non so se è ritrattato, ha specificato è stato detto successivamente che no, 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 no ci sono anche fidanzati, anche tipi di relazioni stabili e quindi c'è questo nuovo modulo che bisogna compilare con attenzione, no? Perché la prima parte è fondamentalmente la stessa, no? Il sottoscritto, bla bla bla, numeri che hanno identità insomma tutti i dati, le generalità poi, va bene, di non essere stopposto alla misura di quarantena, bla 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 ma questo è, diciamo, omologo all'altro, no? Però la parte nuova che mi interessava allora dichiara che lo spostamento è determinato dalla necessità di recarsi in visita al o alla proprio congiunto o congiunta signor, signora, si mette il nome e il cognome del congiunto o della congiunta però adesso qua è la parte più difficile che bisogna compilare, no? perché a questo riguardo si dichiara che il signore o la signora è proprio parente, affine o collaterale e qua c'è il grado entro il primo grado il primo grado è un genitore, diciamo così, no? oppure entro il secondo grado potrebbe essere un fratello perché si passa sempre dal genitore e si va al fratello oppure entro il terzo grado potrebbe essere, ad esempio, fratello e nipote cioè se tu sei la zia e vado tu nipote o se sei nipote puoi andare la tua zia tua zia è di terzo grado come... oppure entro un grado maggiore al terzo ad esempio il quarto ma inferiore al sesto perché noi non possiamo superare il sesto grado come termoto, no? se superi il sesto grado è un problema quindi, ricapitolando per quanto riguarda parente affino o collaterale deve essere ho un parente entro il primo grado quindi a parte che è prima del primo grado ci sei solo te quindi a meno che non vai a fare la visita a te stesso entro il primo grado il primo grado c'è un genitore secondo e poi terzo lo zio o nipote, ad esempio e poi c'è questa cosa qua che bisogna calcolarla è maggiore del terzo ma inferiore al sesto quindi ad esempio il terzo grado abbiamo detto che è un nipote un cugino andiamo già sul quarto grado se tu andassi al figlio del cugino ad esempio per fare un esempio sarebbe un quinto grado è però inferiore al sesto quindi al limite puoi andare a trovare il figlio del tuo cugino puoi ancora andare a trovare perché corrisponde al quinto grado bisogna stare un po' attenti con questi gradi perché devi fare tutti i calcoli se sbagli è un problema però poi c'è anche il fidanzato allora il fidanzato però deve essere un fidanzato stabile qua non ci piove allora lì devi dichiarare fidanzato stabile con fidanzamento ufficiale comunicato in data qui devi deve aver comunicato una data di un fidanzamento comunicato in data oppure con promessa ufficiale di matrimonio e anche qua se hai fatto la promessa ufficiale di matrimonio devi dire se l'hai pronunciata in piedi e in che data l'hai pronunciata questa promessa ufficiale di matrimonio oppure l'hai pronunciata in ginocchio in data oppure viceversa se l'hai ricevuta in piedi o se l'hai ricevuta in ginocchio potresti essere donna e la richiesta di fidanzamento l'hai ricevuta in piedi o in ginocchio poi potresti mettere se diciamo hai già trombato anche se diciamo vabbè questo è in data devi mettere la data oppure c'è l'ultima voce che è questa importante che speri stai andando a fare la promessa di fidanzamento quindi è questa cosa qua spero oggi se mi lasciate andare no? quindi questo è nel caso in cui il fidanzamento non è ancora stabile ufficializzato ma tu proprio in quel momento lì stavi andando a ufficializzare il fidanzamento perché altrimenti resti in un impasto no? perché non l'hai ancora ufficializzato e invece tu stai andando a ufficializzarlo per cui è importante anche questo punto no? se ti lasciano andare poi puoi anche specificare con anello perché se c'è se hai anche regalato un anello devi mettere consegnati in data oppure non ancora consegnato e in quel caso lì puoi andare con la scatolina dell'anello e dici guarda sto andando a consegnare l'anello oggi per formalizzare il fidanzamento oppure c'è anche un affetto stabile perché in alcuni casi non è il fidanzato ma è un affetto stabile e allora in questo affetto stabile ci sono diverse possibilità ad esempio perché potrebbe essere un affetto stabile ma tu aspetti la risposta quindi hai formalizzato la risposta e vai a capire se insomma è stato è andata a buon fine nella tua richiesta di affetto stabile oppure c'è anche questa possibilità che la richiesta l'hai fatta ma mi ha mandato a cagare ma ci spero ancora e quindi cioè tu sei in fase di riconquista no? perché la prima volta ti ha mandato a cagare ma adesso stai andando lì per vedere se riesci finalmente a riconquistare la prima volta è andata male e qua se ci spera ancora devi giustificare però perché il suo migliore amico o la sua migliore amica ti ha detto che ci posso ancora sperare quindi cioè in realtà tu vai lì perché c'hai anche la speranza e poi l'affetto è stabile ma diciamo in realtà ci stai ci vado a provare proprio oggi ci devo provare proprio oggi se mi lasciate andare anche qua come nel caso del fidanzamento sono un po' quei casi borderline per cui tu non sei ancora del tutto fidanzato cioè l'affetto non è ancora stabile ma stai mettendo appunto ora e quindi queste sono le casistiche che vi possono capitare per cui direi che adesso che è tutto più chiaro potete autocertificarvi e andare insomma dei vostri affetti in pace per questo video è tutto mi raccomando lasciate i commenti qua sotto di quello che ne pensate perché io voglio sapere cosa ne pensate di questo nuovo modello di autocertificazione lasciate tutti i commenti che volete per capire bene se avete compreso se no potrei fare un secondo video per chiarire meglio e mi raccomando iscrivetevi al canale seguitemi sulla pagina instagram massimo terramasco e iscrivetevi al nuovo canale crescita personale con massimo terramasco trovate il link qua sotto ciao a tutti grazie a tutti i commenti